Siamo qui nel Borgo più bello d'Italia, Borgo dei Borghi 2021, abbiamo trascorso una mattinata bellissima, si sono appena conclusi i lavori della festa delle Proloco d'Italia e di Calabria. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere ospiti la Giunta Nazionale dell'UMPLI, Unione Nazionale delle Proloco d'Italia e il Comitato Regionale, il Presidente Laspina e il Presidente Capelluppo. È stata una bellissima mattinata, si è discusso di tanti temi molto molto importanti, quella che deve essere la politica dell'UMPLI all'interno dei nostri territori, quindi la promozione dei nostri territori. Cosa dire? Ovviamente la loro presenza è fondamentale per le nostre piccole Proloco, perché appunto ci danno la possibilità di spaziare su bassissimi temi. Ci auguriamo di poter riprendere presso tutte le nostre attività, così come oggi abbiamo dato un segnale di ripartenza, dare un grosso contributo al nostro territorio. Grazie a tutti.